Numero 5. Queto di Princess si distingue come un tritaghiaccio elettrico compatto e capiente, perfetto per chi ama preparare bevande fresche e originali. Con la sua capacità di 300 grammi e la costruzione in acciaio inossidabile, offre robustezza e praticità. Un cucchiaio incluso come accessorio aggiunge ulteriore comodità. La grandezza della granella di ghiaccio risulta media, ideale per cocktail e granite. Per un utilizzo ottimale, il libretto di istruzioni è sempre a disposizione. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 4. Il tritaghiaccio RGV Mojito Junior è un vero alleato per chi ama preparare drinker infrescanti. La sua efficienza nel tritare il ghiaccio lo rende ideale per diverse preparazioni, adattandosi perfettamente a ogni esigenza. Realizzato in robusto acciaio inossidabile, promette una lunga durata. Tuttavia, potrebbe non essere la scelta migliore per chi desidera fare granite. Con una capienza di un chilogrammo, è perfetto per le serate in compagnia. In sintesi, un apparecchio solido e funzionale per la cucina. Se ti interessa questo articolo, trovi il link in descrizione. Numero 3. Rigamonti 175 è un tritaghiaccio manuale che si distingue per la sua compattezza e versatilità. Perfetto per preparare cocktail e granite, è ideale nelle cucine più piccole. Il corpo è realizzato in plastica dura resistente, mentre solo le lame sono in acciaio inossidabile, cosa che potrebbe interessare chi preferisce utensili completamente in metallo. Ha una capienza di 100 grammi e produce una granella di ghiaccio medio-piccola, ideale per esigenze domestiche senza pretese. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 2. Il tritaghiaccio gastrobec è perfetto per chi cerca un dispositivo solido e resistente. Il suo design elegante in acciaio inox lo rende non solo funzionale ma anche un complemento d'arredo. Compatto e pratico, può tritare fino a 100 grammi di ghiaccio in due minuti, ma il contenitore non è molto capiente. Ideale per chi necessita di ghiaccio tritato di grandezza medio-grande in modo veloce e con stile. Assolutamente privo di accessori extra, si distingue per la sua essenzialità. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 1. L'Ariete Sweet Granita Party Time è un tritaghiaccio elettrico con un design retro che rapisce immediatamente l'occhio. Perfetto per preparare granite rinfrescanti in pochi minuti, il prodotto si distingue per la sua capacità di creare una granella di ghiaccio molto fine. Tuttavia, non dispone di un contenitore per raccogliere il ghiaccio tritato, il che può risultare scomodo. Realizzato in plastica dura, è un dispositivo robusto ma manca di accessori extra per un'esperienza completa. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Grazie a tutti.